benvenuti amici di smartworld.it oggi è giovedì 26 marzo e queste sono sostanzialmente le notizie principali uscite quest'oggi su smartworld mobile world e android world iniziamo senz'altro con la recensione di HTC One M9 recensione della quale non vi voglio assolutamente svelare nulla potrei dirvi forse che siamo rimasti un pelino delusi in particolar modo dal comparto fotografico ma vi rimando in particolar modo appunto alla recensione completa per scoprire appunto com'è questo One M9. Parlando sempre di nuovi top di gamma in arrivo abbiamo anche spacchettato LG G Flex 2 uno smartphone che sicuramente appena lo tiri fuori dalla confezione ti fa dire wow per l'effetto dello schermo di curvo ma che ovviamente ancora non è stato recensito e quindi avremo modo di riparlarne prossimamente. Grosse novità anche in casa OnePlus che ha da poco tenuto un AMA ovvero un ask me anything, una sorta di incontro nel quale si può chiedere qualunque cosa sul reddit dove sono venute fuori delle indiscrezioni su OnePlus 2 che sicuramente non avrà un processore Intel perché a OnePlus non piace Intel e non la ritiene all'altezza del resto della concorrenza, un prezzo che sarà sempre piuttosto economico ma sul quale nessuno si è voluto comunque sbilanciare più di tanto e che soprattutto avrà Oxygen OS come sistema operativo preinstallato dando quindi del tutto l'addio a Oxygen OS ovvero quello appunto realizzato da Oxygen Inc. Sempre riguardo OnePlus abbiamo scoperto che il loro misterioso dispositivo che si pensava potesse essere un controller è in realtà un drone del quale però ancora non sappiamo nulla, nessuna foto, nessuna caratteristica, nessuna immagine, ci aspettiamo che sia comunque presentato ormai a breve. Per quanto riguarda invece il mondo Whatsapp barra messaggistica in generale che è sempre piuttosto fervide nuove notizie, attenzione anzitutto alle catene che vi invitano ad attivare le chiamate vocali su Whatsapp perché sono nella maggior parte dei casi dei falsi che magari cercheranno nella migliore delle ipotesi di farvi mandare una catena ad altre persone e nella peggiore di farvi scaricare software non voluto. Nel frattempo Telegram si aggiorna, si aggiorna sia su iOS che su Android integrando su iOS vari servizi di cloud storage e modificando un po' la sua grafica su Android. Facebook Messenger dal canto suo, sempre roba di Facebook in fondo come Whatsapp, diventa sempre più una piattaforma che potrà in qualche modo integrare anche servizi di terze parti, quindi una messaggistica per Facebook che è sempre più a 360 gradi. Si aggiorna anche Google Keep con promemoria ricorrenti e etichette per tutte le nostre note. Si aggiorna anche Android su Nexus 5 e Nexus 6 con nuove factory image, mentre sempre in tema di recensioni vi raccomando di guardare quella delle Soundblaster Jam su smartworld.it, le cuffie di Soundblaster che abbiamo appunto appena recensito e tra le curiosità potete dare un'occhiata a come potrebbe essere il drone di Apple. Se siete poi appassionati di gaming su PC, date anche un'occhiata alle nuove Titan X di Nvidia in modalità Sly, delle GPU che riescono ad ottenere delle scade grafiche, scusate, riescono ad ottenere delle prestazioni veramente fuori dal comune. E infine, sempre per quanto riguarda le curiosità, provate Android sul vostro PC con Handy.